3, 2, 1... Ok! 5, 4, 3, 2, 1... Beh! Vengeste così! Mi raccomando e ricordatevi il regolamento showero! Mi raccomando di essere qui! Volete vedere tutto? Guarda! 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 Poltriamo! Calvis che stia bene con me percivalare二 5 5 5 17 12 11 12 12 13 13 14 Grazie a tutti! 10 secondi 11 secondi 12 secondi 3 2 3 4 5 4 3 1 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 2 è posto! 1! 1, 2, 3, 2, 3!! 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 2! 1, 2, 1, 2, 1! 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. abel naipityle Cad Sciences Chr cancel la D & T sf. Sì, non so, non so. 5, 3, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10 8, 8, 9, 10 8, 9, 10